Schio, 1800 prodotti a tema Halloween, sono stati sequestrati in un emporio dalla Guardia di Finanza. Si tratta di articoli messi in vendita non conforme agli standard di sicurezza, potenzialmente nocivi e privi delle informazioni riguardanti la presenza dei materiali impiegati. Articoli vari come portachiavi, orologi, bracciali, anelli, maschere e capi di abbigliamento destinati per lo più a bambini e adolescenti. Tutto il materiale è destinato alla vendita in violazione dell'articolo 6 del Codice del Consumo. I beni sono stati sequestrati, inoltre le fieme gialle hanno contestato all'esercente una sanzione amministrativa che può arrivare a 25.000 euro.